Un anno di indagini e sette persone agli arresti per truffa, ricettazione e riciclaggio. I carabinieri della sezione operativa di Sassari hanno scoperto un'associazione a delinquere ramificata tra Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino Alto Adige. 27 i soggetti coinvolti in un giro di illeciti ai danni di aziende con sede in tutta Italia per un valore complessivo di circa 800.000 euro. Gli appartenenti all'associazione si presentavano nelle attività commerciali ordinando grosse quantità di merce che pagavano con assegni a vuoto e false fidei usioni. I conti correnti facevano capo ad aziende reperibili ed intestate a un prestanome. Gli articoli prelevati erano di vario genere, autovetture, materiale di re, carburante, elettrodomestici e generi alimentari che venivano rimessi subito in vendita o utilizzati nelle proprie imprese rendendo complicata l'individuazione d'origine. L'operazione dei militari ha impedito ulteriori frodi che stavano per essere portati a termine per un valore di oltre 3 milioni di euro. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla procura della Repubblica di Sassari e condivise dall'ufficio del GIP. Quattro gli indagati finiti in carcere, tra cui un oristanese, Lussorio Manca, e un sassarese, Marco Salis. Disposta la misura domiciliare per gli altri tre, tra i quali un sassarese, Giulio Caggiari e onorese, Salvatore Campus. Sì, una truffa che nasce fuori dalla Sardegna. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Sassari che ha permesso di sarticolare un sodelizio criminale dedito all'associazione finalizzata alle truffe, al riciclaggio e alla ricettazione. Indagini condotte dalla sezione operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Sassari.